dove a notte fonda aldo ieri sono andato a fiumicino per spargere con gli altri le tue ceneri a 300 metri dalla riva m'è parso di ascoltare la tua voce dal fondo della baia e mi sono ricordato della casetta bianca fra i castagni dove a notte fonda finivamo le riunioni con gli altri maestri li ho amati insieme a te fino a quando ti sei arreso al diabete e hai abbandonato il corpo fisico aldo adesso dimmi è vero che vivi ancora sono io un vile che mette in dubbio quello che i maestri immateriali hanno sempre ripetuto scusa se sono molto umano ma se è vero me lo dici nel sogno commento grazie aldo stanotte me l'hai detto e non eri più malato